Oggi parliamo di autotune per strumenti. Dopo la prova fatta col Flex Pitch, ora cerchiamo di correggere l'intonazione di queste trombe utilizzando il plugin equivalente di autotune che troviamo su Logic Pro, cioè Pitch Correction. Settiamo la tonalità del brano, in questo caso mi minore, apriamo un altro Pitch Correction per la seconda tromba e copiamo le impostazioni della tonalità. Però per i due plugin usiamo un parametro diverso per la velocità di intervento, circa 40 millisecondi per la tromba che suona le note lunghe e un attacco più rapido per quella che fa le note brevi, circa 20 millisecondi. E ascoltiamo! Alla prossima tip!